E bene ragazzi, dopo aver parlato di Sparta parliamo ora delle istituzioni di Atene. Atene è diversa da Sparta, Atene non venne fondata dai Dori, Atene si trova nell'Attica e una buona parte della sua economia derivava proprio dai commerci e quindi vide durante diciamo la sua storia una crescita delle classi sociali, dei mercanti e degli artigiani. Atene venne fondata grazie a un sinecismo, cioè all'unione di molti villaggi limitrofi, quindi con l'unione di alcuni villaggi limitrofi si formò la città di Atene. Questo sinecismo si attribuisce al leggendario re Teseo. Detto questo Atene nei primi anni aveva un regime oligarchico aristocratico perché a governare erano gli eupatridi, cioè gli aristocratici ateniesi. E allora com'era la struttura di Atene, la struttura politica, com'erano le istituzioni politiche di Atene nell'età arcaica intorno all'VIII-VII secolo a.C.? Allora abbiamo detto che c'era un regime aristocratico oligarchico e a governare erano appunto gli eupatridi. Allora, a governare la città erano nove arconti. Di questi sei arconti erano tesmoteti, cioè erano custodi delle leggi, insomma si occupavano delle leggi. E poi c'erano tre arconti che avevano delle funzioni ben precise. Allora, un arconte polemarco, cioè comandava l'esercito in guerra, da polemos che in greco significa guerra, un arconte basileus che aveva le funzioni religiose, infatti era sommo sacerdote, e poi un arconte eponimo che dava il nome all'anno perché gli arconti stavano in carica un anno, quindi quell'anno prendeva il nome proprio dall'arconte che governava e poi aveva il potere politico. L'arconte eponimo era il capo dell'amministrazione cittadina. Ah, abbiamo dimenticato di dire che arconte deriva proprio dal greco arco, che significa comandare. Poi c'era un consiglio degli anziani, chiamato Aeropago, che controllava gli arconti e soprattutto amministrava la giustizia, soprattutto si occupava dei reati penali, dei reati di sangue. E poi c'era l'ecclesia, che era l'assemblea di tutti i cittadini ateniesi maschi liberi, e in greco ecclesia significa assemblea, quindi mi potevano partecipare tutti i cittadini maschi ateniesi, attenzione erano esclusi dall'ecclesia le donne, gli schiavi e anche gli stranieri. Allora, l'ecclesia che cosa faceva? Eleggeva gli arconti, i nove arconti che stavano in carica per un anno, e poi approvava o respingeva le proposte di legge presentate proprio dagli arconti. Va bene? Anzi, soprattutto dall'arconte eponimo. Ok? Allora, questa era l'Atene nell'età aristocratica, però la struttura sociale di Atene col tempo cambia, perché abbiamo detto c'è una certa mobilità sociale, quindi accanto agli aristocratici, a questi eopatridi, la cui ricchezza consiste nelle proprietà terriere, si forma nel Demos una classe di nuovi ricchi, che sono proprio i mercanti, gli artigiani, che si sono arricchiti con il loro lavoro, e che vorrebbero, dato che hanno raggiunto la ricchezza economica, vorrebbero anche il potere politico. Allora, come sapete, iniziano proprio le lotte tra aristocratici e Demos, e intervengono i legislatori, appunto ad Atene abbiamo un legislatore famoso, Dracone, che nel 621 a.C. scrive le leggi. Ecco, questa era una richiesta del Demos, perché fin quando le leggi non erano scritte, gli aristocratici potevano, diciamo, ecco, nell'aeropago potevano interpretarle, cambiarle come volevano. Ma quando Dracone, nel 621 a.C. scrisse le leggi, ecco, e si racconta che erano scritte col sangue, tanto erano severe, ecco, queste leggi scritte non potevano più essere cambiate. Detto questo, un altro uomo politico che cambiò il volto di Atene fu Solone. Vediamo di ingrandire un pochino lo schema, eccolo qua. Allora, Solone divenne Arconte nel 594 a.C. e fece una serie di riforme importanti per, diciamo, non solo il tessuto sociale di Atene, ma anche per le istituzioni politiche, perché, ora lo vedremo, con la riforma delle classi sociali per opera di Solone, Atene passò da un regime aristocratico a un regime timocratico, che significa timocrazia, cioè dall'aristocrazia si passa alla timocrazia. Allora, nell'aristocrazia governano gli eupatidi, no? Gli aristocratici. Nella timocrazia, attenzione, governano i più ricchi, è diverso, va bene? Quindi arrivano al potere anche i mercanti, gli artigiani che si erano arricchiti. Perché? Perché appunto Solone divise le classi sociali di Atene in base alla ricchezza, cioè in base al censo, in base al reddito annuale. Allora, divise le classi sociali di Atene in quattro classi. Allora, se scendiamo un pochino... Ecco. Allora, la prima classe erano i pentacosi o medimni, cioè quelle che guadagnavano all'anno, cioè avevano un reddito annuale, di più di 500 medimni di grano o metreni di olio o vino. Poi c'erano i cavalieri che invece guadagnavano ogni anno 300 medimni di, almeno 300 medimni di grano o 300 metreni di olio e vino ed erano così ricchi da poter mantenere un cavallo. Infatti, le prime due classi sociali militavano nell'esercito, proprio nella cavalleria. Poi c'erano gli zeugiti, coloro che invece producevano ogni anno almeno 200 medimni di grano o altrettanti metreni di olio o vino e infatti possedevano una coppia di buoi che in greco appunto si chiama zeugos e questi nell'esercito militavano come opliti, infatti avevano la ricchezza necessaria per potersi procurare l'armatura. Va bene? Infine, proprio in basso, nella gerarchia sociale di Atene c'erano i teti che erano i poveri, cioè coloro che guadagnavano meno di 200 medimni di grano o 200 metreni di olio o vino oppure erano nulla tenenti e questi qua nell'esercito o militavano nella fanteria leggera oppure come marinai, diciamo, come rematori nelle navi. Allora, detto questo, perché parliamo di timocrazia? Perché al potere c'erano le due classi più ricche, cioè i pentacosi omedimini e i cavalieri che non solo pagavano tutte le tasse ma cedevano le cariche pubbliche. Infatti, queste due classi sociali potevano diventare arconti. Poi, gli zeugiti e i teti invece partecipavano all'ecclesia, va bene? Queste due, e all'eliea, che era un tribunale popolare che invece giudicava i reati più leggeri rispetto all'aeropago, cioè non i reati di sangue. Quindi, queste due classi sociali potevano partecipare all'ecclesia, però non potevano accedere all'arcontato. Mentre, accanto alle istituzioni che abbiamo visto, Solone istituisce anche un consiglio dei Quattrocento, cioè una specie di parlamento formato da Quattrocento membri che aveva, diciamo, poteri consultivi e al consiglio dei Quattrocento erano ammesse le prime tre classi, cioè Pentacosi, Omedimini, Cavalieri e Zeugiti. I teti no, i teti erano ammessi solo all'ecclesia e all'eliea. Va bene? Quindi capite benissimo che prima governavano gli aristocratici, adesso governano i più ricchi. Va bene? Ecco qua. Vedete? È Solone che introduce l'eliea, il Tribunale Popolare, per i reati minori e il consiglio dei Quattrocento che è l'organo consultivo. Un'altra riforma di Solone molto importante è la cosiddetta Seisactea, cioè l'eliminazione dei debiti dei piccoli proprietari e la liberazione degli schiavi per debiti. nel senso che purtroppo c'erano stati dei piccoli proprietari terrieri che si erano indebitati e quindi una volta indebitati e non potendo pagare i debiti dovevano vendere il terreno ai loro creditori che poi erano gli aristocratici e diventavano schiavi degli aristocratici, cioè diventavano schiavi per debiti. E allora con la Seisactea Solone eliminò questi debiti e liberò gli schiavi per debiti anche a livello retroattivo e quindi ecco in questo modo ecco i piccoli proprietari terrieri poterono respirare. Va bene? E poi ecco abbiamo visto la riforma sociale in senso etimocratico l'abbiamo vista prima e la riforma dell'esercito l'abbiamo vista no? Perché abbiamo detto che le prime due classi sociali militavano nella cavalleria gli zeugiti formavano la fanteria pesante cioè gli opliti e i teti o la fanteria leggera oppure come rematori nelle navi. Va bene? Quindi diciamo che con le riforme di Solone ad Atene siamo nel sesto secolo avanti Cristo siamo nel 594 avanti Cristo Atene passa da un regime oligarchico a uno timocratico cioè da un regime politico in cui comandavano gli aristocratici a uno dove comandano i più ricchi quindi il demos ricco va bene? accede alle cariche politiche va bene? Poi vedremo con Clissene il passaggio alla democrazia per ora abbiamo finito con Clissene con Clissene